Prosegue il percorso partecipativo voluto dal Comune di Bari per riqualificare l'area della ex caserma Rossani. I tanti suggerimenti arrivati dall'Ost, l'Open Space Technology dello scorso 18 aprile, sono stati vagliati dai più motivati rappresentanti delle associazioni del quartiere che hanno tagliato il traguardo del decimo incontro. I primi lavori per 600 mila euro già affidati partiranno a breve con la trasformazione della palazzina spogliatoio in urban center. Gli 8 milioni della regione serviranno per le due palazzine dove si trasferiranno la Mediateca e la Biblioteca del Consiglio. Il progetto del parco è quasi pronto e adesso la sfida è decidere insieme dove dirottare gli ulteriori 10 milioni di euro frutto della permuta con la Chiesa russa che non consentono la ristrutturazione di tutta l'area residua. I primi risultati sono quelli della condivisione delle scelte con i cittadini. Abbiamo trovato una situazione di grande conflitto intorno alla riqualificazione della caserma Rossani, abbiamo parlato con i cittadini, abbiamo condiviso con loro le scelte, adesso sappiamo di portare avanti delle azioni che hanno la piena condivisione da parte della cittadinanza. Quanto è cambiato il progetto in questi step successivi? La parte dove abbiamo una progettazione definitiva è cambiata sostanzialmente perché i cittadini vogliono la rimozione della piastra di Ciavento.